finalmente la firma dopo anni di attesa i soldi sono arrivati con la firma dell'accordo che assegna maori 18.5 milioni di euro avvenuta nel dicembre del 2015 al team maori è toccato mettersi davvero al lavoro riunioni riunioni tutti i giorni riunioni ma finalmente il team maori ha un nuovo ufficio dedicato esclusivamente al progetto presso l'osservatorio astronomico di volone il project office è al lavoro dopo tre anni e mezzo passate a disegnare finalmente maori nella sala di integrazione di bologna pezzo dopo pezzo maori prende forma finalmente pronto dopo anni di riunioni discussioni battaglie duro lavoro notti in ufficio notti in sala di integrazione alla fine maori è sulla piattaforma di il team ma il destino finale si deve ancora compiere prima che i capelli del piae rimangano incastrati nel derrotatore di maori l'ultima azione deve essere compiuta quindi tutto il processo non si è